Ciao vi lascio subito al video, dopo parleremo di Steven Spielberg e del suo nuovo epico progetto. Tu da che parte del paese vieni? Sono originario del Canada. Indovina dov'è? Ah, lo so dov'è il Canada. Ci sono stato anch'io. Hai viaggiato per essere uno schiavo. Solomon Northup è un eccellente violinista. Sono nato libero. Vivevo con la mia famiglia a New York. Fai il bravo con la mamma. Fino al giorno in cui venni ingannato. A Solomon. Rapito e penduto come schiavo. Allora ragazzo, come ti senti adesso? Vi chiamo Solomon Northup. Sono un uomo libero e non avete alcun diritto di imprigionarmi. Tu non sei un uomo libero. Non sei altro che un fuggitivo della Georgia. Il prossimo servo, che non obbedirà al suo padrone, riceverà 50 frustate. È nelle scritture. Non è giusto come tratti i lavoratori. Loro sono miei. Lo dici con orgoglio. È un dato di fatto. Parla! Ognuno fa ciò che vuole di quello che gli appartiene. Oh! Tu! Vieni qui! Ho detto, vieni qui! Pochi giorni fa ero con la mia famiglia a casa mia. E ora tutto è perduto. Se vuoi sopravvivere, lavora e parla meno che puoi. Io non voglio sopravvivere. Io voglio vivere. Sospettavo che sapessi qualcosa! Ho eseguito gli ordini. Se qualcosa è sbagliato, sono sbagliati gli ordini. Sei stato portato qui per lavorare. Se lo rifai, ti prendi 100 frustate. So cosa vuol dire essere sottoposto alla frusta del padrone. No! Verrà il giorno in cui Dio li punirà, Solomon. Io ce la farò! Non mi lascerò sopraffare! Fino a quando non conquisterò la libertà! Io ero un uomo lepano. Non sarò mai uno schiavo. Allora, vi dicevo che c'è un nuovo rumor che riguarda Steven Spielberg e il suo nuovo progetto cinematografico. Si tratta di Montezuma, battaglia tra il condottiero spagnolo Hernando Cortez e il rivale messicano Montezuma. Sceneggiatura scritta mezzo secolo fa dal due volte premio Oscar Dalton Trumbo. Lo script sarà rivisto da Steve Zahillian e il protagonista Cortez avrà il volto di Javier Bardem. Per la regia il nome più gettonato è quello di Steven Spielberg, anche se non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Steve Zahillian sarà anche il produttore, probabilmente insieme allo stesso Spielberg. Vedremo però se questi rumor saranno confermati. Vi terremo aggiornati, naturalmente. Fateci sapere con i vostri commenti che ne pensate. Se vi va mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook Anteprima Cinema e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!